Senti visto l'importanza che ha il calcio in questo paese, la delicatezza dell'argomento, ti sei mai chiesto ma chi me l'ha fatto fare? Cioè? Cioè nel senso ti sei preso una bella responsabilità a fare un programma sul calcio? Guarda, l'ho pensato all'inizio, io ho presentato a Farituoi il famoso gioco delle scatole nel 2006 la prima volta, venivo dai telefilm, dal teatro, dai film al cinema e me lo son chiesto anche lì all'inizio, però è anche vero e anche questa volta nella riprova, adesso tutto è andato benissimo, sta ancora andando bene, speriamo di finire benissimo e come è iniziata e quindi è facile dirlo, però io credo che la vita non possa essere una serie di rimpianti al bar a dire come sarebbe andata, allora preferisco affrontare una sfida che mi emoziona, che mi incuriosisce, è chiaro, ho detto anche dei no importanti nella mia carriera, perché sapevo di non essere giusto per quella cosa lì, per quel programma là, però poi ho sempre preferito, sia quando è andata bene, quando è andata male, aver accettato, perché comunque la sfida mi faceva paura ma mi stimolava e non dover dire come sarebbe andata, cioè io credo che la vita, anzi so sicuro, vada vissuta, quando mi parlano del successo, appunto come dicevo prima preferisco parlare di affetto, non di successo, perché comunque è un participio passato, è sostantivo, ma soprattutto io lo leggo da participio passato, allora dicevo è successo, mi interessa il succedere, cosa succederà domani, cosa faremo dopo nella nostra riunione e quindi avessi detto no mi sarei sicuramente privato di una sfida, di grandi notti di paura, cioè non ci abbiamo dormito, noi voglio dire veramente andiamo via da qui con i fornai che sfornano alle 4 di mattina il pane, però ne valsa la pena perché non si può tutta la vita scappare, cioè è come se l'Italia non fosse scesa in campo alla Germania, andiamo a vedere come va a finire e poi come dice anche Ligabue con Moriali e poi magari scopri che vinci pure i mondiali, quindi le sfide vanno, quando ti senti pronto, non che vincerai, ti senti pronto ad affrontarla, bisogna andare. Però visto allora il successo che stai riscontrando, a questo punto quando rivedremo Flaminzino in un altro programma sportivo? Che facciamo? I mondiali? Ci stanno chiedendo, in caso i mondiali li facciamo? Sì, certo Sì, ma le vanno come qualificazioni, sì Eh beh sì, no perché qui noi già siamo con la testa al fatto che non è detto che si qualifica i mondiali, cioè se la rischia, detto in italiano, cioè girone complesso, passa solo la prima, poi migliori secondi, che se di nuovo questo tabellone qui, sempre che è come meccanismo, non so se venivano ripescati, quindi innanzitutto buon lavoro avventura, insomma, buon lavoro racconta al Celsi, ma soprattutto avventura con la nazionale, e però se ci chiamano noi mondiali siamo qua, li facciamo, vediamo anche chi convoca però, prima vediamo chi convoca. Potrebbe? Chiediamo agli amici del sport, potrebbe qualche minuto alla fine entrappi... Tu eravamo quei giovani, quindi potrebbe essere... Battuta di un interista, qui ci siamo tutti, Lazio, Roma, tu sei della Roma, vero? Dire qualche volta, qualche volta targhe alterne e magari lo fa entrare per i rigori, battuta, è una battuta, ci vogliamo... anzi, stiamo preparando, lo diciamo, questo non lo tagliare, ti prego, stiamo preparando delle clip, proprio per Pelle e per Zaza, perché non si può, come nella canzone di Gregori, è vero che, insomma, quel rigore non era un particolare, eh, però, voglio dire, non è che adesso possiamo crocifiggere dei ragazzi, se sono dati comunque. Ripeto, al grande match avremo clip, video, come diciamo noi anziani, loro sono giovani, dicono clip, delle immagini, riflessi filmati, immagini dei nostri campioni, perché un secondo prima di battere quel rigore, Pelle era il gigantone intelligente che portava avanti la squadra, che smistava, torre, palla di testa, due gol, chiude la partita col Belgio, chiude la partita... e allora non si può, non si può dimenticare tutto in un secondo.